Saluto Nandra e la ringrazio per essere venuta qui a Radio Radio a parlare di questo che è stata una cosa naturale perché Nandra è una rappresentante delle forze dell'ordine ed è mossa dalle stesse passioni, dalle stesse nostre passioni noi lo abbiamo fatto, io spesso ho raccontato anche del mio passato da ufficiale perché quando si ama il proprio paese Francesco, quando si ama il proprio paese si vorrebbe fare tutto cioè tu vorresti fare il poliziotto, io da uomo vorrei fare anche il militare che difende io ricordo da bambino con mio papà quando camminavamo con l'auto e vedevamo le pattuglie ferme per la stadia io chiedevo papà cosa fanno quei signori col freddo, col caldo e lui mi diceva ci stanno difendendo perché abbiamo una costituzione che dopo la guerra ci ha portato la libertà, ci ha portato il rispetto ha escluso che possano verificarsi nel futuro alcune cose e quelli sono qui per difenderci quindi il mio desiderio da bambino era quello di contribuire e noi degli anni 60-70 siamo cresciuti con questa logica allora siccome io Francesco e Tiziana ho capito che anche Nandra ha avuto questo tipo di spinta per entrare nella polizia, per entrare a far parte della forza pubblica che difende il cittadino italiano ecco perché ho voluto che fosse qui con noi stamattina a raccontarci intanto la sua storia grazie e poi quello che è successo che è una cosa Francesco completamente casuale perché lei è stata invitata si è trovata, è stata sul palco da libera cittadina ovviamente, non da poliziotto perché il suo compito è un altro da libera cittadina è stata sul palco e ha raccontato quello che lei da libera cittadina ma anche consapevole dei suoi diritti perché Nandra tu sei un avvocato esatto ecco raccontaci un po' come è andata intanto perché a un certo punto tu facevi l'avvocato e hai detto no, voglio fare il poliziotto perché ho sempre pensato che le persone danno il meglio di loro stesse quando si sentono al sicuro e quindi mi piaceva l'idea di poter garantire la sicurezza dei cittadini poi è chiaro che facendo questo mestiere, che ormai sono 13 anni che lo faccio ho capito che la gente non ha bisogno di sentirsi al sicuro soltanto quando cammina per strada quando è metropolitana, quando sta seduta sul divano della suocera la gente ha bisogno anche di sentirsi al sicuro dentro e sentirsi al sicuro dentro vuol dire tutta una serie di cose la prima cosa vuol dire non avere paura delle proprie emozioni, dei propri sentimenti, di ciò in cui si crede e quindi avere il coraggio anche di difendere le cose in cui si crede poi significa anche tutta una serie di altre cose come per esempio riuscire ad entrare davvero in relazione con l'altro perché se tu non entri in relazione con l'altro, questo ce lo insegnano già i greci tu non potrai mai conoscere te stesso perché la tua identità è un regalo del riconoscimento sociale degli altri quindi diciamo gli ideali fondamentalmente è l'amore per lo Stato e per le istituzioni perché io sono una donna delle istituzioni e amo le istituzioni anche se ritengo che a volte, ahimè, ci siano persone che non le rappresentano il meglio e questo non lo dico io o comunque possono commettere degli errori sì ma questo ce lo insegna la cronaca giudiziaria cioè non è che è un'idea mia io sono una persona normalissima che si informa insomma dove posso cioè tu vuoi dire, negli anni anche chi ha rappresentato le istituzioni ministri ed altri, no? politici eccetera e beh, qualche processino l'hanno subito e sono stati anche condannati quindi significa che non hanno fatto bene il loro dovere esatto, esatto documenti sbagliati quindi il principio fondamentale della Costituzione che tu rivendichi è possiamo almeno discuterli? possiamo almeno criticarli? con abiti civili? esatto, esatto nell'esercizio delle nostre diritto di parola? ma infatti prima di arrivare alla questione del Green Pass che per me è fondamentale, chiaramente centrale prima di arrivare a quello bisogna dire una cosa il fatto che io sia un poliziotto, una poliziotta lo sanno tutti perché adesso mi accusano di aver danneggiato l'immagine della polizia ma il paradosso è che io sono stata l'immagine della polizia per tanti anni perché ho vinto quattro premi dati dalla società civile per i miei risultati professionali perché ho risolto alcuni dei casi che hanno fatto più clamore tra i media quindi insomma sono guarda sei in buona compagnia perché anche dei premi Nobel oggi vengono umiliati e gli viene dato del rincoglionito quindi sei in buona compagnia sei entrata nel club di quelli che prima erano intelligenti dei geni intelligenti servitori dello stato e poi da un certo punto sono diventati dei cretini pazzi o terroristi però questo ovviamente tu non lo sei per le persone che ti ascoltano per le persone che amano il paese e la costituzione lo sei per quel gruppo di persone che oggi tendono a conservare il loro status e tendono a non entrare nel dibattito neanche a confrontarsi che purtroppo è il grande dramma di questo periodo cioè tu hai voluto denunciare un dramma di questo periodo è la mancanza del confronto scientifico e anche ideologico ma neanche culturale perché tutta questa questione strumentalizzata che mi ha visto finire sulle prime pagine magari no ma comunque su tutti i giornali è che non può essere un problema mio se c'è l'ignoranza in giro cioè una poliziotta che cita Gandhi quasi potrebbe sembrare uno scimoro perché Gandhi è l'emblema della non violenza quindi se io cito Gandhi e cito le sue parole sto dando un messaggio intanto di pace perché Gandhi ha liberato un paese con la non violenza quando la famosa frase sulla disobbedienza io non ho incitato nessuno né all'odio né alla disobbedienza io ho spiegato che cosa significa manifestare ma sono cose differenti scusami l'odio è un conto la disobbedienza civile è un'altra cosa ma io non ho incitato nessuno di due ma poi comunque questo lo dico io la disobbedienza civile anzi è uno strumento civile non violento per manifestare una cosa che non funziona per manifestare un dissenso quindi voglio dire io posso manifestare il dissenso in molti modi credo che in una società civile, democratica e pacifica la disobbedienza civile sia uno dei modi pacifici per manifestare il proprio dissenso altrimenti se ci vogliono tutti incanalati e tutti quanti bei soldatini è un altro discorso ma una democrazia moderna non può volere i propri cittadini tutti bene allineati e coperti c'è anche il dissenso e la disobbedienza civile è uno dei modi per manifestare il dissenso in modo pacifico ma che cosa vogliamo fare? vogliamo aspettare che la gente si arrabbia poi sul serio? io preferisco la disobbedienza civile se operata civilmente poi che tu non lo abbia detto io ho sentito, ho rivisto molte volte il tuo intervento che abbiamo pubblicato anche noi quindi chi vuole se lo va a rivedere in realtà il tuo intervento è un intervento di altissima caratura perché tu parli proprio di questioni giuridiche essendo anche un avvocato ma certo ma non solo allora intanto io ero lì come libera cittadina a esercitare i diritti previsti dalla Costituzione articolo 17 e articolo 21 ripeto il fatto che io sia una poliziotta conosciuta lo devo all'amministrazione stessa che ha investito su di me al fatto che non per colpa mia se uno metteva il mio nome su Google fino al 24 settembre perché adesso escono i notti fatti del 25 ma insomma fino al 24 uscivano tre pagine su quello che io ho fatto con me in divisa, foto quindi tutti sanno che cosa faccio io quindi lo scalpore della poliziotta che va sul palco cioè veramente mi sembra un po' esagerato questa è la prima questione per quanto riguarda il fatto che io abbia incidato all'odio alla disobbedienza, al non rispetto delle leggi anche questo ripeto è ignoranza perché significa non conoscere Gandhi poi per il discorso che avrei leso l'immagine dell'amministrazione io credo che l'immagine dell'amministrazione magari può essere stata lesa non so con i fatti del G8 di Genova con i poliziotti che hanno multato la famiglia che portava la bambina l'eucemica di 8 anni a fare la visita durante il lockdown beh io direi anche con le riprese dal drone e dall'elicottero del tizio di spiaggia che vai a beccare che era da solo quello è una cosa che ha fatto ridere il mondo cioè voglio dire io credo che anzi il contrario adesso non voglio stare qui a fare l'avvocato difensore non ne hai bisogno però io credo che il fatto che tu sia apparsa sui giornali il giorno dopo non per l'importanza del tuo discorso della difesa dei cittadini e della Costituzione infatti adesso ci arriviamo ma soltanto per il fatto che qualcuno si era già inventato l'idea di farti un procedimento disciplinare la dice molto lunga addirittura penale un 415 per istigazione a disobbedire le leggi perché mi attribuiscono che alcuni manifestanti facinorosi avrebbero aggredito un poliziotto ed è colpa mia intanto la responsabilità penale è personale intanto secondo io non ho proprio istigato nessuno quindi e poi sinceramente io ero in piazza fino alle 7 e mezza io questi scontri non li ho visti ho visto bambine, mamme, famiglie avvocati, medici abbiamo visto le immagini prima non lo so sarò diventata cieca probabilmente in quel quarto d'ora però al di là di questo che non mi va a discendere in questo dettaglio a me quello che mi preme dire è questo io non ero lì soltanto come libera cittadina qualcuno ha detto chi indossa una divisa la indossa sempre e io lo condivido forse non si può neanche mai togliere una divisa forse ce l'abbiamo esatto infatti proprio tre gatti quattro gatti forse la divisa mi sembra un popolo pacifico molto pacifico molto pacifico io ho visto tutta la manifestazione è stata una manifestazione di grandissima responsabilità civica sì e quindi dicevo al di là appunto del fatto di essere pacifica io ho un dovere cioè io come rappresentante dello Stato c'è un articolo nella Costituzione ricordiamocelo che noi abbiamo una delle Costituzioni più meravigliose al mondo ah ce l'abbiamo qui dopo dopo la vediamo infatti quando arriveremo al Green Pass cioè dobbiamo parlarne per forza abbiamo l'articolo 54 della Costituzione che mi obbliga a far rispettare la Costituzione al di là che io giro io come tutte le forze dell'ordine armata abbiamo giurato sulla Costituzione ma io ho proprio il dovere di rispettarla è un dovere cioè si usa questa parola quindi io vengo adesso accusata di che cosa? di aver fatto il mio dovere? di aver fatto il mio dovere? cioè io penso che sia surreale questa storia sì è surreale, sai cos'è surreale? e poi però voglio sapere il tuo passaggio da avvocato a poliziotto questo ce lo racconti fra un pochino però sai cos'è surreale? è surreale proprio assistere a questa cancellazione del principio del dibattito cioè tu hai espresso il tuo parere da libera cittadina ma anche sulla base delle tue conoscenze giuridico-legali e anche da rappresentante delle forze dell'ordine lo hai fatto negli abiti civili ma lo hai fatto con la conoscenza che hai anche della tua professione assolutamente allora se qualcuno avreva qualcosa da dire avrebbe dovuto invitarti così come stiamo facendo noi se ci fosse qualcuno qui noi lo potremmo anche invitare anzi invitiamo il ministro Lamorgese invece di fare i provvedimenti disciplinari usare questo atto di autorità che a noi non piace l'autorità non ci piace venisse qui e ci spiegasse facciamo un bel dibattito con la dottoressa poi è il piccolo violato esatto così ne parliamo pubblicamente visto che voi pubblicamente avete mi fanno il processo avete fatto già i processi pubblici voi è già condannata pubblicamente possiamo pubblicamente dibattere dei motivi per i quali per i quali la dottoressa ha voluto dire queste cose voi ne direte altri lei ne dice altri e Nandra tu saprai ben difendere la tua idea di costituzione e di rappresentante delle forze dell'ordine quindi ma questa cosa non funzionerà non accetteranno mai ma io non ho detto niente di eccezionale per questo noi viviamo in un mondo della rovescia perché io non solo ho difeso la costituzione e adesso ci arriviamo noi viviamo in un mondo della rovescia perché come dicevi bene tu non c'è pluralismo non c'è libertà di informazione perché il problema vero è lì io l'ho detto pure in piazza c'è il presupposto indispensabile per l'esercizio di qualsiasi diritto e libertà è l'informazione libera cioè se io non sono informata non conosco i miei diritti ma come posso esercitarli se non ci fosse radio radio se non ci fossero tutti gli altri canali di informazione libera ma noi le cose come le sapremo non le sapremo quindi io non condanno io non condanno nessuno non odio nessuno non sono contro niente sono proprio una pacifista e quindi mi viene molto da sorridere quando mi hanno veramente mi hanno dipinto come una terrorista le etichette subito ma non solo c'è gente a lavoro che non mi saluta più non mi riceve più cambiano strada per altri sono una santa un'eroina Giovanna d'Arco io non sono né l'una né l'altra io sono una persona comune io non voglio diventare un supereroe io sono una persona comune che ama il proprio paese e che voleva semplicemente fare il proprio lavoro niente di più niente di meno e siccome hanno toccato la costituzione nella quale io credo allora arriviamo al punto della costituzione chi ha scritto la costituzione era veramente una spanna sopra gli altri perché ha capito che dovevano prevedere il fatto che non si poteva immaginare eventuali future derivi autoritari visto da quello da cui loro uscivano hanno pensato noi non possiamo sapere se questa cosa i corsi i corsi della storia quello che ci dice Gramsci non lo possiamo sapere quello che accadrà scriviamo una costituzione che tuteli tutti i cittadini e che cosa hanno fatto hanno fatto una prima parte della costituzione che forse il popolo italiano non lo sa l'ha dimenticato non lo so o meglio quelli che mi attaccano forse non lo sanno la prima parte della costituzione richiama i cosiddetti diritti inviolabili dell'uomo sono diritti che non possono essere compressi non possono essere modificati io questo ho detto dal palco niente di più niente di meno c'è il diritto al lavoro alla libertà alla circolazione il diritto all'uso del proprio corpo e alla vita sociale non possono essere compressi perché sono diritti preesistenti all'ordinamento giuridico e quindi questo Green Pass non viola soltanto tutta la prima parte della costituzione perché molti dicono viola l'articolo 3 ma non viola solo l'articolo 3 cioè viola tutta la prima parte della costituzione viola tutti i principi internazionali viola la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea viola persino e questo è il paradosso l'articolo 36 del regolamento europeo 953 che è istitutivo del Green Pass che dice che il Green Pass non può essere utilizzato come strumento di discriminazione e allora io cito la legge mi appello alla legge e vengo additata come una criminale come una terrorista prima ero l'immagine della polizia adesso sono una terrorista da denunciare da mettere nelle patrie galere se vogliono fare di me una martire io sono in questo sono mi sento molto vicino al grande professor Meluzzi io sinceramente credo in Dio e quindi credo quindi mi affido fate di me quello che volete sono molto anche divertita da questa situazione sì guarda tutto nasce tutto nasce Nandra dall'equazione sbagliata dall'inizio che io dico sempre c'è un'equazione le equazioni le equazioni non sono delle operazioni semplici le equazioni sono sequenziali questo significa che io prima devo risolvere una operazione poi con quel risultato io faccio quella successiva mi arrivo il risultato faccio la successiva e faccio questo lo dico per chi non conosce le equazioni l'equazione funziona così è un'operazione seriale prima ne risolvo una poi con quel risultato risolvo la seconda eccetera fin da arrivare al risultato finale ovvio che se io in questo percorso commetto un errore il risultato cambia il risultato finale sarà comunque errato anche se tutte le altre operazioni nel mezzo sono corrette esatto quindi io devo stare molto bene attento a non commettere errori durante lo svolgimento dell'equazione altrimenti alla fine il risultato sarà errato perché mi porto dietro l'errore e anche se dopo ripeto ripetita Juvent e anche se dopo farò tutte le operazioni correttamente ma l'errore me le falserà tutte dov'è il problema? il problema è aver dato per dogma alcune questioni esatto il vaccino funziona le cure non esistono la tachipirina va bene i non vaccinati contagiano muoiono si muoiono eccetera eccetera allora se noi diamo per scontate queste cose che in realtà scontate non sono perché la scienza noi lo abbiamo ripetuto mille volte dopo magari dopo il break vedo che si avvicina il primo break dopo il break vedremo anche che cos'è la scienza c'è scritto sulla Treccani noi l'abbiamo mostrato un sacco di volte la scienza non è quello che dicono loro la scienza non si chiama Mario, Giuseppe o questi signori che vogliono autoproclamarsi la scienza neanche scienziati loro dicono la scienza l'ha detto ma chi l'ha detto la scienza non parla la scienza è un metodo quindi ma il metodo scientifico è il dibattito la discussione libera da ogni autorità quindi questo che cosa significa dove vogliamo arrivare vogliamo arrivare che la meraviglia la meraviglia dei popoli liberi e delle nazioni che hanno adottato delle costituzioni importanti è proprio quello che dicevi tu prima l'esclusione totale di ogni emergenza sine die che altrimenti diventa come dice giustamente Cacciari eccezione e quindi guerra ma il dibattito continuo è l'impossibilità di imporre ai cittadini una qualsiasi disposizione limitativa della propria libertà non è possibile non è possibile perché perché la costituzione dice questo poi oggi è stata interpretata dopo il break lo vedremo meglio perché andremo un po' più nel dettaglio perché perché è questo il punto è l'errore dell'equazione iniziale che noi stiamo tutti commettendo ecco perché poi nascono i miti gli eroi e invece i traditori nascono questi questi il divide-timpera le categorie esatto noi dobbiamo evitare il divide-timpera ed ecco perché è importante che Nandra che rappresenta se stessa prima di tutto è un avvocato ma oggi è anche un rappresentante delle forze dell'ordine un'importante rappresentante pluridecorata oggi deve deve lo sente il dovere la responsabilità la responsabilità di accendere una lampadina nessuno qua sta facendo niente di eversivo si accende una lampadina si dice guardate che questo provvedimento del Green Pass è una minchiata punto sei siciliano mi permetterai minchiata allora voglio dire questo si sta dicendo poi è vero non è vero discutiamolo nelle sedi opportune non con i provvedimenti con le minacce sui giornali il giorno dopo è questo che questa cosa a noi cittadini ci indigna particolarmente non possiamo vedere persone che fino a ieri hanno rappresentato degnamente tutto insieme oppure i premi Nobel che dall'oggi al domani diventano dei deficienti soltanto perché hanno detto una cosa contraria al potere al potere anche le mie parole sono state totalmente travisate alla fine quando mi hanno chiesto ma tu cosa farai il 15 ottobre bla bla eccetera io a parte sono molto ironica quindi insomma anche nel mio discorso finale c'era questa ironia io ho fatto una semplice domanda ho detto ma lo Stato il governo si è posto la domanda di che cosa accadrà dal 15 ottobre se questi 15 milioni di italiani dovessero decidere di stare a casa e dire no al Green Pass cioè la domanda se la sono fatta io semplicemente ho fatto una domanda questa mia domanda non si può neanche più fare domande evidentemente non si può più fare domande un'altra cosa che io mi chiedo io a me piace essere così nel senso che mi piace essere una cittadina onesta quindi non ho alcuna intenzione di cambiare ho sempre pagato le tasse pago il canone io non riesco a capire perché non abbiamo diritto ad un contraddittorio alla pari tra uno dei tanti per esempio virologi televisivi di un montaniero non sono virologi nessuno di coloro forse uno o due che hanno questo perché poi si autotitolano io non ho ancora questo poi lo dirò perché oggi non è a me ma io qui proprio ho intervistato uno di queste famose cosiddette viro star e mi ha chiesto di mettere sotto come sottopancia virologo ora siccome era registrata la cosa una delle poche volte che noi registriamo io non l'ho fatto vabbè li inseriamo dopo beh io non manderò in onda manderò dei pezzi così capirete anche chi è ma io non scriverò virologo perché sono andato a vedere non è virologo è un igienista e quindi qualcuno avrà già capito di chi parlo cioè è un igienista quindi mi dispiace ma io quella scritta non ce la metto non ce la metto perché non me la sento di scrivere una stupidaggine cioè è come se io domani mattina dici tu chi sei sono il papa mi vesto di bianco e così me lo sono auto assegnato no ma infatti questa cosa è incredibile oggi abbiamo abbiamo anche questa poi nessuno si ricorda che tre mesi fa diceva una cosa sei mesi un'altra cioè voglio dire c'è una contraddizione continua e costante ma il cittadino dopo vedremo perché non solo noi ci poniamo delle domande se le pongono anche tantissime altre persone anche personaggi del mondo dello spettacolo che fino a ieri meno male avevano un'idea diversa oggi si stanno ponendo delle domande